Subito dopo la puntata del Grande Fratello di ieri sera, un'indiscrezione ha scosso i fan del celebre reality, mettendo a rischio il cuore di milioni di telespettatori. Prima di immergerci nei dettagli scottanti, ti invito a premere il tasto Iscriviti e lasciare un Mi piace per rimanere sempre aggiornato sui nostri contenuti. L'indiscrezione circolata suggerisce che Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, potrebbe avere l'intenzione di sospendere il programma di Canale 5. Questo potrebbe rappresentare un vero e proprio colpo al cuore per i numerosi fan del reality, abituati a dedicare il loro lunedì e giovedì sera a questa avvincente trasmissione. Le voci suggeriscono che Berlusconi sia profondamente infastidito dagli eccessi di volgarità, turpiloqui e oscenità trasmessi in diretta televisiva. L'amministratore delegato avrebbe visionato attentamente alcuni filmati, giungendo alla conclusione che il comportamento e il linguaggio utilizzati rappresentano una mancanza di rispetto nei confronti del pubblico, specialmente considerando il vasto numero di giovani che seguono il programma. ...e delle protezioni concesse da Alfonso Signorini, il conduttore dell'edizione corrente, nei confronti di alcuni concorrenti. Tale situazione avrebbe alimentato la decisione di Berlusconi di prendere misure drastiche, anche alla luce degli avvertimenti dati nella scorsa edizione. La domanda che sorge spontanea è se siate d'accordo con Pier Silvio Berlusconi. In un'edizione ibrida, formata da personaggi famosi e non, i toni accesi e il linguaggio forte sembrano aver portato il capo di Mediaset a una decisione inamovibile. Resta da vedere quale sarà il destino del Grande Fratello, e noi continueremo a tenervi aggiornati su ogni sviluppo. Non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perdere nemmeno un aggiornamento su questo avvincente capitolo del mondo televisivo.